Allora c'è la credit resist death per un turno, colossal damage, massimo resist attack, credit resist per un turno, caso mega colossal damage, debuffa l'attacco death Attack on death più 120, addition attack on death più 77 nel turno in cui riceve un attacco, kipp 1 massimo di 6 all'inizio turno Guarda con tutti gli attacchi primo o secondo ad attaccare, prima addition a death 58 se è il secondo o terzo ad attaccare Action si è trovato gli attacchi nemici se è il terzo o in turno, come i praticamente così, come Gogeta e Vegito del quinto anni Ridulce di danno ricevuto del 10%, base così, addition a damage d'action di 10 per il match in Busaga categorizzati on the team Quindi, capite bene, che hai fatto un team da 7, match in Busaga, questo c'ha 60% di damage d'action di più il 10, 70 Additional kipp 1 per orbo presa della... quindi kipp 2 praticamente Attacco superfugale contro tutti, quando i kiis sono 20 o superiore Trasformazione in super saian 3, credit resist attack on death per un turno, colossal damage Face da attacche, i massi di credit resist death per un turno, caso mega colossal damage, massi di lower death E come se mi metti gli zabiti di attacca? Ah, poi come lead c'ha Machi Busaga o super saian Potevano mettere super saian 3, visto che diventa 3, vabbè Kipp 3 HP di attack on death 170, addition HP di attack on death 30, se ci sono i Fuged, fai, capo Attacco on death 177, kipp 6 per i 7 turni poi si trasforma Kipp 4 dall'ottavo turno, quindi di questo provo di ki No, relativamente poi Lancia un additional attack e a media chance di essere una special, guarda contro tutti gli attacchi Quindi non c'ha più il Fuged, primo, secondo, quarto, quinto La additional attack on death 177, quando lo stesso turno riceve un attacco La additional death più 58, se è il primo o il secondo ad attaccare I tuoi c'hai ricevuto del 30 rispetto al prima gara 10 Chance di fare un crit più 7 per ogni orb rainbow presa La additional kipp 1 per type sferra presa Attacco super efficace contro tutti, quando i kiis sono 16 o superiore Ed il chance di fare un crit e lancia una additional attack, quando i kiis sono 24 Finalmente c'ho la donazione Golengs ti punta il dito, che fai? Ok, link ho bene con Vegito 178.000 death, l'ho detto, non hai chissà quanta death Roba media orbo non ne ha Qua attualmente c'ha 10, 20 30 C'ha 40% di, no 30% più, c'ha 40% di TR Sì, perché non contando se stesso Però non so se non conta pure l'amico, perché ha lo stesso nome, ma non credo Cioè, non conta se stesso Quindi, 40% di TR Guardia attiva Se riceve il pugno si buffa, perfetto Ah sì, per essere un tank comunque Te carica 9 milioni, io ti dirò È un signor tank Vediamo quanto fa questo Cazzo, che deve fare È un signor tank Quattro milioni Se uno poi lo metteva alla fine e guadagnava il dodge Però qua non si può doggia Sì, sono PG fan made Sono Ciao Cordica Sarei curioso di vedere Gotenks insieme a Gotenks Piuttosto che trasformarlo Perché c'ha 70% di TR Quando lo butti giù un cosa del genere Un po' col Vegeta qua, tristissimi Il Vegeta che non linka un cazzo Figurate Un po' fatto a meme sto team Beh, 8-8 Sta linkando di merda, più o meno Non c'è nemmeno il buffer A D, no? Niente a D E' più Ok, seconda fase Dal quarto turno possiamo trasformarlo E qua è un po' di merda Quanto mi fa di... Se mi fa Spero il Vegeta Poi siamo morti Non credere che qualcuno Aveva da ridire Devo fare così Eh, però linka di merda 3-46 No, faccio così Mi frega un cazzo Devo vedere Gotenks è il maximum Della potenza Il giro ci farà morire? Probabilmente Uso l'item adesso? No Mi voglio male? Sì Vai Gotenks 9-4 Bello Questo è un Janemba Sotto effetto di steroidi Più o meno C'ha le meccaniche come lui Goto E' un Janemba Che ci crede molto di più Oh, 104 Tagli Vabbè Vigito che con tutto il... Quanto c'ha 90% di TR Mi pare nei pugni Si sopprende Tan Sì, sì E' sotto effetto di popo Narcotici Va bene Ok Il turno dopo Si trasforma Gotenks Ok Gojeda Ah, lui Ah, giustamente Siamo al quarto d'uno con lui Però dove l'inca? Uno schifo Difesa 170 Noi lo trasformiamo Non so se c'ha qualche animazione Ah, c'ha quella di... Di Gotenksid Su Pagotex Tatada E adesso credo che farà anche più danni 200.000 def Ricordo guardia sempre attiva Riduzione del danno del 30% base Poi mi ricordo più meno Così Non so, comunque è Vegeta che mi puzzano un po' Voglio far girare l'altro Gotenks Così lo metto in quest'altra tornazione Vedete se elincano 8 e 6 Ok, gli danni sempre listiamo Però se mi pare guadagnato il crit mi pare Non mi ricordo Ok, disabilita l'attacco Ah, con la 24 più chi Giustamente c'ha l'add di special Possibilità di critare e add di special Quella con la 24 Però l'inca di merda E' quello, non lo possiamo provare prima Oh, ma salve Ok, Gotenks alla fine è un po' un suicidio Però lo devo fare E sai cosa faremo adesso? Ghostasher Che devo vedere La turnazione degli dei, signore Guarda, se non mi hanno messo la possibilità Che i due Gotenks possono rincare La merda 5 e 7 Vabbè, non ha preso nel pugno Primo o secondo Non mi ricordo mai che si prendeva dei buff 150.000 Io mi fido più dei Gotenks Però Problema di chi? Per fortuna che c'ha Di base chi più 6 mi pare I primi 3 turni E comunque c'ha problemi Figurati Succo, ma io vedi che most finisco qua E ci sono Devo solo vedere la turnazione degli dei Vediamo che lì ero morto su Gogeta Se non stavo doppiati Devo con una Qua Goku e Vegeta Possono mai mare Farne il cazzo che voglio Però non ho messo un buff di sto team Giusto per avere i 10 milioni di Gotenks In realtà si I due Gotenks linkano Credo che li supera anche Che linka tutto Sempre se li ripeto Lo sono fatti bene Non mi tira special? Eccolo Ese Too much easy Baffettino Sette milioni Comunque Sì Gotenks è Figo Ci sta È un personaggio Che Probabilmente in futuro Ci potrebbe pure stare Non un Gotenks Ma un personaggio Che faccia Le cose del genere Ripete È un Giannima Sotto effetto di steroidi Ma non Pompato a 1000 150 Qua Possiamo pure trasformare Però Special Niente special Perfetto Sciottiamo sto schifo E vediamo Un ultimo turno No Zucca No Sono curioso Di vedere Quanto può fare C'è Una durazione Con doppio Gotenks È Una signor Turnazione Uno che c'ha Con un team Full Machin Busaga 70% di DR L'altro che c'ha 30% di DR Critta Fad Però ripeto Se uno vuole far tankare Meglio tenerlo in base Con 200.000 def 70% di DR Peccato che non esista Come personale È il momento della verità Sì Lickero Però non lì Dai Vaffa culo No C'hai link diversi Vabbè Era per il meme Ci ho sperato Per un momento Ma a me Zzi Se fanno schifo Qua link là Però con più di 16 Ki C'aveva una cosa Tipo E tornando Sto in 17 Ki C'ha la guardia T Io non uso Item adesso 24 Perfetto Google VG Dalla fine Mi puzzano Però Se moriamo Non mi interessa Comunque Gotenks Con 40% di DR Farà male Questa Se con 300k Ah C'è la guardia attiva M'erò dimenticato Nel C Nel C M'erò dimenticato Nella guardia Vediamo Gotenks Quanto carica 6 e 4 Ok Che non ha preso Il pugno Giustamente Se no Stava quasi Sui 10 milioni Credo Ci sta Ci sta Qua ha fatto Il fatto che Era 24 Ki Dobbiamo che Mettere insieme Un po' Ma perché Devono prendere i pugni Per baffarsi Qua addirittura 3 special È partita pure La passiva È la build Anzi poi è partita La build Era sempre la passiva Quella E adesso Con quel vegeta Ci farà morire Malissimo È una forte Sta LNKK Tanca Merda Tanca Prendi il minimo 80k Con i pugni Gotenks Abbiamo visto Alzo le mani Alzo le mani Gotenks Abbiamo visto Ma un vestito Prende 80k Di pugni E qua Dove vogliamo Andare Belli Belli Sempre belli Da giornata Simpatiche Con 20 persone Di DR Figure Di pose Soforte Vabbè Abbiamo visto Gotenks